Disposto il giudizio immediato al Tribunale di Aggregento a carico dell'equipaggio presunto corriere del più ingente quantitativo di cocaina mai sequestrato in Italia. I dettagli. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Aggregento ha disposto il giudizio immediato il prossimo 15 luglio innanzi alla sezione penale preseduta da Alfonso Malato e in calendario la prima udienza a carico di 15 persone di nazionalità ucraina, turca e azzerra componenti dell'equipaggio presunto corriere del maxi sequestro di cocaina più di 5 tonnellate ad opera della Guardia di Finanza risalente lo scorso 19 luglio. Un peschereccio il Ferdinando d'Aragona è salpato da Bagnara Calabra con a bordo un italiano ovvero il comandante di origine calabrese, due tunisini, un francese e un albanese. I finanzieri del comando provinciale di Palermo e della squadra aero-navale lo hanno intercettato e bloccato. I cinque sono stati arrestati. Il carico stupefacente senza precedenti in Italia e tra i più rilevanti in ambito mondiale, oltre 5 tonnellate e 300 chili di cocaina, è stato sequestrato. Teatro dell'operazione straordinaria è stato il tratto di mare antistante alle coste agrigentine. La sera di martedì 18 luglio 2023 i piloti di un aereo delle fiamme gialle impegnati in un servizio di ricognizione nel canale di Sicilia e da alcuni giorni attratti da una nave mercantile sospetta, la nave Plutus, battente bandiera di Palau nell'arcipelago delle Filippine, si accorgono che alla stessa nave si avvicina un moto peschereccio partito dalle coste calabresi. Di notte è stata ultimata la diagnosi investigativa, ossia la nave mercantile, quindi la nave madre, stazione ai limiti delle acque territoriali e aspetta il peschereccio, verosimilmente per un trasbordo illecito. Infatti, alle prime ore di mercoledì 19 luglio sono rilevate anomale operazioni di accumulo di numerosi pacchi sul ponte della nave madre, che poi sono scaricati in mare verso il peschereccio, che si affianca per il recupero del carico gettato in mare e che nel frattempo disattiva il sistema di localizzazione AIS per il tracciamento. Scatta il blitz. Il peschereccio rientra verso le acque territoriali ed è catturato. A bordo, avvilmente nascosto dietro una pannellatura che copre un ampio locale, è rinvenuto un enorme quantitativo di stupefacente. Immediatamente altri finanzieri si lanciano all'inseguimento della nave mercantile, la nave madre, ovviamente complice del figlio, il peschereccio. La nave è in rotta verso la Turchia e è acciuffata e condotta al porto di Palermo. L'equipaggio è composto dai 15 trasferiti nel carcere Pagliarelli a Palermo e adesso ha processo alla Palazzo di Giustizia in via Mazzini ed Agrigento. E il peschereccio fu scortato fino a Porta Empedocle, ricostruendo la catena di montaggio del maxi trasporto di cocaina verso la Sicilia, la nave Plutus lunga 140 metri ha sollevato l'ancora a giugno da Santo Domingo, poi tappa a Trinidad e Tobago e poi nel porto di Las Palmas, capitale della Gran Canaria, isola dell'arcipelago delle Canarie, da dove è ripartita il 7 luglio. Ha attraversato lo stretto di Gibilterra ed è giunta infine nel canale di Sicilia, in attesa del moto peschereccio salpato dalle coste calabresi. Grazie a tutti.